E' martedì 18 giugno, buongiorno dalla redazione di Telemolisi, in apertura nella prima edizione del nostro Tg parliamo degli esami di maturità, al via domani con la prima prova quella di italiano per 2.500 studenti molisani, sono ore di ansia e di punti interrogativi in attesa di sapere quali saranno le tracce. Tutti i numeri di questi esami e il messaggio curale del direttore dell'ufficio scolastico regionale nel servizio di Giovanni Di Tota. Un maturando su due in Molise ha frequentato il liceo, la metà esatta degli studenti che da domani mattina cominceranno la prima prova scritta, quella di italiano, valida per tutti. Sono 2.500 i candidati alla maturità di cui poco più di 1.800 in provincia di Campobasso e poco meno di 700 in provincia di Misernia. A loro si è rivolta Maria Chimisso, direttrice dell'ufficio scolastico regionale per i consueti auguri della vigilia. Ricordo che quest'anno c'è una novità importante che è rappresentata dal portfoglio elettronico, dalla piattaforma unica e dall'introduzione di un principio, prima ancora che di un contenuto bellissimo, che è quello del capolavoro. È importante che ognuno di voi ragazzi si senta un capolavoro di unicità, perché in questa vostra unicità c'è la grandezza di ognuno e nelle scelte che ognuno compie. Il capolavoro interviene all'interno del vostro curriculum, è parte della discussione su cui si incentra anche il colloquio dell'esame di Stato e vi rende veramente unici. Nella seconda prova scritta gli studenti del liceo classico dovranno tradurre una versione di greco, matematica alla materia scritta per gli studenti del liceo scientifico, economia aziendale per gli istituti tecnici. Rendiamo atto di questo che è un momento importante per la vita dei nostri studenti, che vale anche come rito di passaggio, infatti viene chiamato esame di maturità. Quindi in questo momento così importante per la vostra vita ragazzi, siate soli con voi stessi, superate le ansie e pensate, guardando dall'alto e verso l'alto, a ciò che il futuro vi può consegnare. Voi sarete i protagonisti del vostro futuro. Il voto finale dell'esame di Stato è espresso in centesimi, massimo 40 punti per il credito scolastico, massimo 20 punti per la prova d'italiano, massimo 20 per la seconda prova scritta e massimo 20 per il colloquio orale. Sono 75 le commissioni per un totale di 156 classi che in Molise dovranno assegnare i punteggi avendo a disposizione 5 punti di bonus per ogni studente che ne ha diritto e da stasera caccia la traccia possibile e mano agli amuleti. E cambiamo argomento a Campobasso, stand di attività per celebrare la giornata nazionale dello sport. Tra questi è anche quello del Responsible Research Hospital che ha realizzato decine di visite cardiologiche. Ce ne parla Stefano Ricci. L'impulso del CONI per una giornata di sport, attività e visite gratuite per dire anche in Molise che in regione si vive bene sì, ma con sport e prevenzione si vive certamente meglio. Beh intanto complimenti al CONI che è riuscito anche questa volta nella giornata in cui si festeggia lo sport a fare una manifestazione all'altezza del compito, quindi un ringraziamento al Presidente. Lo stile di vita della nostra regione è appunto quello di competere con una buona prospettiva di salute, con i cibi che naturalmente non possono mancare sulle tavole di molisani, ma con lo sport. Il Responsible Research Hospital ha offerto visite gratuite, una visita con elettrocardiogramma per poter dare informazioni ai cittadini perché, come recita il lemma dell'iniziativa, il segreto è nel cuore. Abbiamo sviluppato un'app, una piattaforma che di fatto monitorizza i pazienti a casa che noi poi operiamo anche prima e attraverso l'intelligenza artificiale, cioè un modello, riusciamo a predire prima se un paziente o una persona possa sviluppare un infarto o delle arittemie importanti. Il dottor Caffarelli è il direttore dell'unità operativa complessa di cardiochirurgia del Responsible Research Hospital. Come fare in modo che lo sport faccia nei limiti del possibile sempre solo bene? Lo sport e l'attività fisica fa sicuramente bene perché lo sport ha la funzione praticamente di tenere la pressione sotto controllo o fare in modo che la pressione non diventi un fattore di rischio in età avanzata, ha la funzione di mantenere la glicemia sotto controllo, il colesterolo e i trigliceridi, logicamente sempre associata ad una dieta equilibrata e bilanciata. Lo sport è importante anche come riabilitazione post-operatorio ai pazienti operati al cuore, per cui è fondamentale controllare i fattori di rischio e certamente lo sport è uno di quelli che riesce a controllarli meglio. Dottore, un'ultima chiusa, come si direbbe così in gergo un po' affetente, lei fa tutto questo? Io lo facevo molto spesso, adesso purtroppo ai me sono otto mesi che sono chiuso all'interno del Responsible a lavorare e operare la mattina alla sera, ma siccome nella riabilitazione c'è un tapis roulant della Tecno Gym, io quando posso alle sei di mattina scendo e mi faccio la mia oretta di corsa. Bene, ed è tutto per la prima edizione del nostro Tg, adesso la rassegna stampa. Partiamo come sempre dal web, dal nostro giornale del Molise, anche qui in apertura agli esami di maturità, maturità al via per 2500 studenti molisani, si parte con la prova di italiano domani la prima prova degli esami di Stato. Dal giornale del Molise a primo numero che in apertura parla invece dell'allarme siccità con le prime giornate di caldo che stiamo vivendo. La nostra tra le 12 regioni ad alto stress idrico, Molise Acque conferma, si prospetta una situazione critica, dovremo razionare le notizie di queste ore, dicevamo nelle prime ore segnate a caldo sulla nostra regione. Il quotidiano apre con il ballottaggio di domenica prossima, ballottaggio a Campobasso confronto tra De Benedittis e Forte, ci sono le parole, gli scambi di accuse tra i due rivali, accordo Forte-Luta, tre assessori ai civici, rendiamo noti anche i nomi per chiarezza, detto Pino Ruta dopo l'accordo con Maria Luisa Forte, De Benedittis, il candidato del centro-destra attacca il patto delle poltrone, non farà cambiare idea ai molisani. Fin qui il web, andiamo sulla carta stampata, anche qui in apertura il ballottaggio, lo vediamo sulla prima pagina di Primo Piano Molise che va ad analizzare i termini dell'intesa tra Forte e Ruta e De Benedittis che risponde a un circo della sinistra. L'accordo per il ballottaggio prevede interventi immediati su scuola, differenziata e centro storico e la nomina di tre assessori al cantiere civico. La preside ironizza, l'Anatra volerà, sono le parole della Forte con riferimento a quelle ipotesi che circolano di Anatra Zoppa nel prossimo consiglio comunale. Il candidato del centro-destra bolla l'apparentamento come terribile commedia, Lancellotta cesa e lotito in campo, il leader del centro-destra a sostegno di De Benedittis. Le foto sono riferite alla campagna elettorale per il ballottaggio, sotto invece si parla di quello che accade alla provincia di Isernia. Via Berta, Saia mantiene gli equilibri, delega dall'olio, vice e a sacco. Cosa accade? Che Saia non ha la maggioranza e così il presidente della provincia ha chiesto aiuto al centro-destra. Nella squadra ci sono anche Paglione, Centracchio, Ferri, Marco Vecchio e Falcione. Le altre notizie? La questione Stellantis, Gigafactory e Futura Tinte Fosche parte la mobilitazione. A Venafro, chiavi della città al Vescovo, stasera alla processione di San Nicandro. Sono giorni di festa a Venafro, ieri sera il concerto di Clementino con migliaia di persone e oggi, stasera appunto la processione di San Nicandro. Qui accanto le altre notizie, il meteo, ondata di caldo africano, lo dicevamo almeno fino a sabato, attesi picchi di 30-40 gradi. Anche qui si parla della questione dell'acqua, situazione critica, Moliseacqua avvisa i municipi evitare sprechi e anche qui poi la maturità al Via domani. Domani la prova di italiano, gli auguri dell'ufficio scolastico regionale ai 2.500 candidati. Infine qui nella parte bassa vi faccio vedere questa curiosità, danza verticale, la torre di vetro, palcoscenico per le donne volanti, l'appuntamento venerdì per la prima volta in Molise, la foto del Palazzo di Vetro che si trova alle porte di Campobasso nella zona di Colle delle Api. Su primo piano vi faccio vedere anche lo sport sotto la testata, si parla già del prossimo campionato di C per il Campobasso, si parte il 25 agosto, girone B sempre più vicino. Poi basket e pallavolo, Madera e il colpo della Magnoli, Antonucci all'Europea 92, infine l'evento Boiano ospita le gare di qualificazione mondiali di calcio 3 vs 3, 3 contro 3. Da primo piano Molise, adesso invece andiamo sulla stampa nazionale, gli nuovi equilibri europei in apertura un po' su tutti i giornali e poi l'ennesima strage del mare, strage di migranti in particolare, strage di bambini. Ma andiamo con ordine, cominciamo dal Corriere della Sera, Europa ancora senza accordo, vertice dei leader sul futuro di Commissione e Parlamento, Tusk dice Giorgia, la maggioranza c'è già, nomine, meloni, no a pacchetti preconfezionati ed è gelo con Macron e Scholz. Poi nella parte centrale, dicevo della nuova strage in mare, affonda il barcone, strage di bambini vicino alla Calabria, altre 10 vittime in Sicilia. La grande foto è per Mahmood, cantante che va a fare una lezione in comunità, ragazzi non mollate mai, ha incontrato gli aspiranti rapper del centro di Don Burgio, anche qui sulla prima del Corriere c'è la tragica morte del generale Graziano, trovato senza vita un biglietto d'addio per il presidente di Fincantieri. Questo era il Corriere della Sera, andiamo su Repubblica, la stessa vicenda in apertura, ritirata di meloni, battaglia a Bruxelles, leader di Fratelli d'Italia si sfila dalla trattativa, snobbata da popolari e socialisti, rischia la fuga dei conservatori verso Le Pen. Alla cena tra i capi di governo affiorano i veti incrociati sulle nomine europee, no di Tusk al socialista Costa come presidente. Dicevamo la strage dei migranti, strage dei bambini, titola Repubblica, con questa foto a largo della Calabria. Anche su Repubblica l'addio a Graziano, l'alpino che ha perso la guerra del dolore, si è trattato, lo ricordiamo, secondo le prime indagini di un gesto estremo. E poi l'esame di maturità, le paure dei giovani alla vigilia dell'esame, che ne sarà di noi? E poi gli europei di calcio, la Francia soffre, ma batte l'Austria. Da Repubblica andiamo sulla stampa di Torino, ursula bis, la sfida di Meloni, pepe, socialisti, no conservatori, la premier, siete autonomi, vediamo i voti in Parlamento. Per la Commissione slitta l'accordo del secondo mandato, Taiani dice l'Italia ha diritto ad un vicepresidente di peso. E poi c'è questo caso, scurati, ricorderete le polemiche in Italia, e ascurati di Francia, lo schiaffo di Macron, lo scrittore da noi bersaglio in Francia, nominato cavaliere dal presidente. Dalla prima della stampa, sotto la testata, la strage senza fine dei bambini migranti su una barca a vela a largo della Calabria, 66 disperti, 26 sono bambini, il governatore dice un pugno nello stomaco. Questa è la prima pagina della stampa di Torino. Dal giornale di Torino a quello di Roma, il messaggero, l'apertura è la stessa, nomine o è Meloni, Gela, Ursula, Summit informale tra i 27, Wunderlein favorita per la Commissione, la premier frena, niente accordi preconfezionati, Scholz e Tusk, la destra resti fuori, ma Taiani dice dialogare con i conservatori. Sotto la testata si parla di compagnie aeree, Ita, Lufthansa, il primo via libera di Bruxelles, l'ok dell'antitrust con condizioni e Giorgetti conferma che le nozze ormai sono vicine. Questa è la prima pagina del messaggero dove vi faccio vedere. C'è anche quest'altra notizia. Ieri è arrivata la sentenza del processo per la strage di Corinaldo. Ricorderete la strage nella discoteca dove si esibiva Sfera e basta. Ebbene, tutti assolti per la responsabilità sulla sicurezza del locale, non colpevole di omicidio colposo per i sei morti e c'è il dolore dei parenti dopo questa sentenza che riguardava l'aspetto legato alla sicurezza nel locale. Questo è il messaggero. Andiamo a vedere adesso invece la prima pagina del Fatto Quotidiano. Passate le elezioni, Meloni invia i supermissili a Kiev, guerra senza limiti, la Nato vuole più testate nucleari in Unione Europea che devono essere pronte all'uso, scrive il Fatto Quotidiano nel suo pezzo di apertura sulla prima pagina di oggi. Il Quotidiano dei Vescovi a venire, la foto è per la tragedia in mare, 10 cadaveri, 66 dispersi senza soccorsi, un mare di morti e c'è la foto dei soccorsi appunto purtroppo con dei corpi senza vita in questo gommone. E poi l'Unione Europea, bis senza Meloni, vicina all'intesa per la riconferma di Von der Leyen e di Metzola, sono i due leader europei. Anche qui la strage di Corinaldo, controllori assolti per i reati più gravi, indignati i familiari delle vittime. La prima pagina di avvenire è quella che abbiamo appena visto. Adesso vediamo il giornale della sinistra, il manifesto e l'apertura è proprio su quello che sta accadendo per i nuovi vertici europei. Vengo anch'io, è il titolo prendendo in prestito la celebre canzone di Giannacci, l'accordo europeo per il bis di Von der Leyen e i top jobs esclude Meloni, ma lei spinge per entrare, punta a ribiare le decisioni a dopo il voto in Francia e mette sul piatto i suoi voti segreti per la Commissione. Questo era il manifesto. Proseguiamo adesso invece con Libero. Sul Libero si parla anche qui della questione europea. Per colpire Meloni boicottano l'Italia. Trattative a Bruxelles. Il Premier frena l'intesa che ci escludeva dai ruoli chiave dell'Unione. Intanto l'opposizione rema contro a colpi di dossier. Elettori ignorati via libera europeo alla legge ammazza agricoltura. E questa è la prima pagina di Libero. Adesso invece vi faccio vedere anche il giornale della destra, il secolo d'Italia. Il titolo di apertura è Unione Europea. L'Italia vuole una vicepresidenza e qui il titolo è più diretto su quelle che sono le trattative in corso per i nuovi vertici europei dopo il voto dei giorni scorsi. Vediamo adesso invece le notizie economiche. Lo facciamo come sempre con la prima pagina del Sole 24 Ore. Si parla di partite IVA, fisco, il conto del concordato, redditi su anche di otto volte per gli evasori. Prime simulazioni ufficiali sulle richieste dei contribuenti per l'intesa con lo Stato, per chi è in linea, incrementi minimi, esentasse tutte le entrate aggiuntive. Questa è l'apertura sul Sole 24 Ore dove c'è anche un'intervista al Ministro Crosetto. Più che i nomi, l'Unione Europea deve decidere un programma. Queste le notizie economiche. Adesso lo sport con la Gazzetta che ovviamente in prima pagina ha gli europei di calcio. Si guarda già all'attesa partita dell'Italia degli Azzurri con la Spagna in programma giovedì sera. L'Italia che cambia, Spalletti studia le mosse, anti Spagna una nazionale piuttosto per continuare a sognare. Il CT pensa a Mancini per frenare Morata e ai centimetri di Cristante accanto a Giorginio. Sotto la testata invece la partita di ieri sera, una delle partite, quella di punta. La Francia che vince su autogol, la stella della Francia però si rompe, il naso non sarà operato. Mbappé che botta paura per il fuoriclasse. Queste le notizie sportive. E con gli europei le notizie sportive dalla Gazzetta si chiude la rassegna stampa di Telemolise. Io vi ringrazio per averci seguiti. Vi auguro una buona giornata. Vi ricordo il nostro TG alle 14. A più tardi. A più tardi.